Tragedia per una famiglia fanese che ieri ha perso la propria figlia di appena 4 anni a causa di una gravissima insufficienza respiratoria. La piccola è deceduta all'ospedale Salesi di Ancona dove era ricoverata nel reparto di anestesia e reanimazione pediatrica. Al Salesi la bambina era arrivata dopo un trasferimento dal pronto soccorso di Fano dove la notte fra il 30 aprile e il primo maggio era giunta con febbre alta e gravi affanni respiratori. Al Salesi la bambina è risultata positiva al tampone per il Covid-19 ma far precipitare le condizioni della piccola è stata piuttosto la sovrapposizione del virus ad una polmonite batterica. Una combinazione che ha aggravato il quadro clinico di un corpicino affetto da trisomia 18 o sindrome di Edwards, una patologia cromosomica genetica simile alla sindrome di Down. Sindrome che era accompagnata da una serie di altre patologie rare che non hanno dato alla piccola la forza necessaria per combattere l'infezione. Il bollettino del Salesi ha spiegato come alla progressiva risposta alla terapia antinfettiva non è corrisposto un miglioramento del quadro respiratorio che si è mantenuto costantemente precario nonostante l'applicazione di varie strategie di ventilazione meccanica. Alla crisi respiratoria è corrisposto un progressivo deterioramento della funzione cardiovascolare fino al decesso della piccola paziente.